Adesso lascio la parola a Leonardo Niero di Link Area Medica. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per essere qui. Chi siamo quest'oggi? Siamo studentesse, studenti, medici neolaureati, camici grigi. Perché percepiamo lo stesso stato di abbandono da parte delle istituzioni. Per anni abbiamo visto applicare soluzioni placebo che non hanno mai risolto il problema della radice. Siamo stati abbandonati da parte della politica. E con noi di dieci anni in Italia la sanità, meno 37 milioni di euro. Questa battaglia di oggi non è una battaglia di classe, non è una battaglia di soldi medici. È una battaglia di tutta la cittadinanza e deve essere. Tanti si indebitano con amici, familiari e parenti. E in tutto questo c'è una sanità privata che continua e cerca di permeare l'interno del sistema per garantire ovviamente degli introiti a livello economico, a danno della cittadinanza stessa. Il chiaro segno di depotenziamento del pubblico attraverso la pietra di lobby, da parte di assicurazioni private, cooperative, casse mutue. In tutto questo piano la grande assente ancora una volta la salute della popolazione.